eccoci buonasera a tutti e benvenuti sono rosa tumolo direttrice del giardino dei libri e questo è il 91esimo webinar gratuito della serie dialogo con gli autori questa sera qui accanto a me c'è gianfranco gori salve ciao è un nostro collaboratore e che da qualche mese fa parte dello staff del giardino dei libri e sta lavorando ad alcuni progetti per nostro conto gianfranco ve lo presento è autore regista teatrale e giornalista a radio televisivo allora gianfranco io ti ho presentato brevemente io sono molto felice che tu sei qui con me questa sera a farmi compagnia è ancora più felice perché dopo aver visto tanti webinar da casa oggi sono qui con te quindi sono veramente felice di essere qua bene 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 mi fa molto piacere e mi fa piacere anche presentare questo webinar assieme a te e questa sera abbiamo un ospite eccezionale parleremo di podcast e di come raccontare pubblicare e promuovere storie da ascoltare e lo faremo con damiano croniali giornalista ed è il massimo esperto di podcast è vero è vero damiano eccoci qua ciao ciao rosa ciao gianfranco come state benissimo molto bene tu come stai tutto io sono contentissimo io sono contentissimo di stare qua ospite vostro al giardino dei libri sono emozionato contento felice è una giornata importante anche per il mondo del podcast si è appena concluso un super evento mondiale di spotify che ha parlato proprio dell'importanza per gli autori di creare podcast ossia storie da ascoltare voi pubblicate e non pubblicate insomma c'è nel senso sul giardino dei libri si possono comprare tantissimi libri ed è un modo di esprimersi il podcast diciamo che il contraltare al libro è un modo diverso di esprimere storie di raccontare storie credo che ci sono tutti gli argomenti per fare una bella chiacchierata insieme bene grazie grazie mille damiano per aver accettato il nostro invito e mi fa molto piacere e siamo contenti di averti qui questa sera grazie gianfranco rosa voi mi vedete bene non è che sono sgranato vediamo io ti vedo bene a regina cosa dici perfetto mi dicono se perfetto senti damiano per questo webinar abbiamo circa abbiamo aggiornato prima 1377 iscritti wow ciao a tutti sono contentissimo siamo in tanti siamo in tanti a parlare di podcast senti un pochino forse meno del solito come noi ci siamo detti che ti ho spiegato ma perché è un tema un po diverso dai soliti webinar che noi trattiamo ma comunque questa sera è molto importante per noi esserci assieme a te e diciamo che queste 1377 persone non sono poche cosa ne pensi io credo che sono tante soprattutto hanno capito che la voce è importantissima c'è una massima buddista io medito faccio meditazione sono molto vicino a tutto il mondo insomma che è rappresentato dal giardino dei libri io credo che la voce svolge il lavoro del buddha e quindi è importante sviluppare una voce per raccontare storie e attraverso la voce la voce uno strumento potentissimo per poter raccontare appunto storie per poter narrare per poter fare veramente importante da conoscere la grande forza della comunicazione della voce damiano permetti di presentarti come come si deve parliamo appunto di damiano crognali che sei giornalista video storyteller e un podcast producer no si dice così hai lavorato per la 7.it per la stampa dove hai pubblicato video dagli stati uniti e sei stato anche inviato in siria ho visto proprio dei tuoi dei tuoi lavori successivamente anche per l'agenzia giornalistica italia in kuwait hai collaborato come giornalista con il fatto quotidiano con ninja punto it e con sky tg 24 dove hai appunto la rubrica per l'innovazione tecnologica è stato e sei speaker radiofonico per la nota emittente radiofonica e qui ci accomuna perché anch'io sono figlio della radio radio atlanta di milano hai lavorato come digital strategist su progetti di comunicazione creatività come podcast producer ha ideato realizzato diversi podcast di successo e diciamo che hai un canale molto seguito su youtube e sei l'autore del libro podcast il nuovo rinascimento dell'audio soprattutto quello diciamo beh diciamo che aver lavorato in radio e si aver lavorato in radio mi ha aiutato molto a vedere all'inizio proprio l'esplosione del fenomeno podcast da quando ancora i podcast non venivano diffusi su spotify spotify non c'aveva la sezione podcast come ce l'ha oggi non sta puntando sui podcast come oggi io ho iniziato in radio e ho abitato gli ultimi due anni in medio oriente in kuwait e io avendo fatto radio in italia quando mi sono spostato in kuwait e lì non potevo fare radio più insomma cioè non c'erano limitanti radiofoniche o parlavo arabo o era un po complicato invece grazie proprio al podcast ho continuato a fare il mio programma che facevo in radio in italia grazie agli strumenti offerti appunto da spotify che ha aperto ai podcast ma non solo a un sacco di altri insomma posti luoghi speaker tanti altri strumenti che hanno traverte gli smart speaker come questi appunto google home google assistant comunque no stavo dicendo appunto che ho continuato a fare contenuti in audio il mio programma alla radio dall'altra parte del mondo a cui si a di nuovo so giù no 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 sei in diretta ok c'era rosa che stavo vedendo che mi stava chiamando no appunto avvisatemi se dovessi andare giù comunque sono abituato ormai gli ultimi anni avendo abitato in medio oriente facendo il corrispondente da là ogni tanto quando facevo le dirette mi dovevo sempre collegare alle reti tra la siria e l'arabia suddita insomma dovrei stare adesso in questo momento sono in italia quindi dovrebbe reggere insomma la connessione comunque grazie proprio ai podcast il podcast è praticamente un contenuto on demand cioè non in diretta e qualunque autore qualunque creatore di contenuti che lavora con l'audio può può insomma creare i propri i propri contenuti i propri programmi grazie alle piattaforme insomma che permettono lo streaming online nella decisione si può definire una radio 2.0 un certo se è di più perché mentre la radio cioè diciamo che la differenza tra radio podcast è che la radio in diretta e il po e si diffonde nel lettere mentre invece il podcast è un contenuto che viene trasmesso on demand e 15 senso te lo vai a cercare online non è non è in diretta nel senso c'è una post produzione dietro ma mentre ad esempio la radio quando vivi online diventa web radio il podcast è un passo successivo cioè è un tipo di ascolto che non viene vissuto in diretta ma io mi vado a vado a pubblicare un contenuto che potrebbe essere un sempre verde cioè posso raccontare una storia che dura per sempre una volta la faccio una storia un racconto di 30 40 minuti i podcast sono pure più lunghi perché l'ascolto ha bisogno di dilatare i tempi cioè non è come i social network veloci veloci e poi cercano sempre di prenderti l'attenzione c'è con la voce con i podcast tu devi e anche non grazie podcast rispetto alla radio non devi acchiappare subito l'attenzione cioè la gente sta lì già per ascoltarti e quindi c'è tu puoi allungare i tempi e poi raccontare qualcosa e attraverso appunto la tua voce attraverso che ti sceglie sia nei tempi che negli argomenti in un certo senso esatto proprio così io non vi voglio disturbare però prima di continuare voglio ricordare visto che sono tanti in collegamento che se volete ai partecipanti che possono interagire e partecipare attivamente facendo delle domande qui nella chat a destra relativa all'argomento di questa sera potete fare delle domande domande Damiano risponderà alla fine del suo intervento e questo è importante perché così Damiano mentre tu parli noi dietro le quinte raccogliamo già un po di domande intanto stanno arrivando saluti complimenti eccetera saluti a tutti vi racconto qual è la mia idea di webinar visto che veramente c'è il senso rispetto a fare un video che è molto complicato perché un video devi stare attento alle luci qui ad esempio io per me è complicatissimo sistemare le luci e poi la telecamera devi stare davanti a un video invece invece con un podcast o un contenuto in audio è molto più semplice alla fin fine ti basta un cellulare oppure un microfono anche artigianale non servono i microfoni radiofonici un microfono costa quelli buoni partono da 40 50 euro quindi super abbordabili come costi e hai uno strumento come spotify dove ci sta già la musica ma non solo ce ne sono diverse c'è spreaker ci sta deezer ce ne sono tanti di luoghi e addirittura appunto come l'ho detto gli smart speaker che sono le radio moderne sono nate per trasmette per per accendere le luci per la nomotica ma oggi insomma la radio la radio che si ascolta oggi sono questi insomma sono questi sono questi strumenti qua dove c'è nel senso io li attacco al cellulare e trasmetto appunto in la mia musica ma anche i miei racconti cioè ovviamente una roba che è alla portata di tutti e la mia idea è raccontarvi quali sono quelle abilità che si dovrebbero sviluppare per poter raccontare delle storie da ascoltare e poi insomma provarvi a raccontare come pubblicare un un podcast e se poi ci avete dei dubbi o avete anche dei podcast che già avete pubblicati online magari me li potete ce li potete segnalare li posso ascoltare anche direi di sì siccome adesso sta nascendo questa nuova diciamo area legata al giardino dei libri proprio con radio book con book tv e tra poco proprio anche grazie alla tua collaborazione questa sezione legata ai podcast lasciamo te la parola così anche tutti i nostri amici in collegamento potranno anche farsi un'idea come creare i podcast e potranno magari diventare che i nostri collaboratori quindi lasciamo te la parola e buon webinar grazie stanno già arrivando le domande è vero va bene allora è è un webinar io non ho slide dietro è un webinar diciamo a ve lo faccio a braccio nel senso vi provo a raccontare ho qua il mio quadernetto a penna vedete io scrivo tutto cioè nel senso i podcast vanno scritti per me è fondamentale questa cosa qua scrivere quello che si dice soltanto che una scrittura diversa è una scrittura per l'ascolto devo pensare che le persone non mi stanno leggendo cioè non stanno leggendo un libro ma stanno ascoltando un nostro contenuto e i podcast in realtà esistono da tantissimo tempo esistono dal 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 meno da dopo gli anni duemila soltanto e adesso che stiamo vivendo veramente un rinascimento grazie ad alcuni fattori che podcast per cominciare c'è una parola che significa è una crassi tra ipod e broadcast cioè la diffusione tramite gli ipod inventati da insomma da steve jobs e da tutto quel gruppo di apple che aveva iniziato a a condividere la musica attraverso questi aggeggi che una persona si portava dietro si ascoltava insomma la musica accanto alla musica steve jobs in itunes al tempo aveva messo insomma anche i podcast ed apple podcast oggi è uno degli strumenti più insomma più famosi per ascoltare i podcast accanto ad apple podcast oggi ci stanno anche google podcast ossia se voi create un contenuto audio esattamente come su youtube quando fate le ricerche tipo andate a cercare non lo so libri libri di fantascienza e trovate un video su youtube adesso trovate anche i podcast e addirittura io ho pubblicato qualche giorno fa un podcast tra l'altro intervistando lucia giovannini che è autrice di un altro bellissimo libro scritto sempre per roi edizioni la mia stessa casa editrice e che è stata ospite prima di me qui al giardino dei libri ecco c'è il senso in un podcast in cui io intervisto ad esempio lucia giovannini al minuto 10 se non è ancora attivo lo sarà brevissimo google permette di fare una ricerca al momento esatto in cui avviene questa determinata questo determinato fatto qui e poi c'è spotify insomma che sta insomma puntando moltissimo sui podcast e addirittura oggi proprio proprio prima di questo intervento ha tenuto il suo strimone il suo intervento annuale di cui poi parlerò comunque meglio nei prossimi giorni a sketchy g24 all'interno di now con un servizio appunto su questo evento qua venendo a noi quali sono i motivi per cui oggi viviamo il nuovo rinascimento dell'audio quello che io ho chiamato nuovo rinascimento dell'audio perché insomma ve l'ho detto esistono dal 2000 però oggi insomma se ne parla tanto secondo me per un paio di motivi il primo è che ci sono degli editori che ci stanno investendo il giardino dei libri che è in qualche modo un editore sta ha deciso adesso di puntare sui podcast prima no è lo stesso repubblica oppure story tell story tell è un'applicazione tu paghi un abbonamento e hai la possibilità insomma di ascoltarti podcast di qualità quindi editori giornali insomma stanno investendo nel mondo dei podcast ma poi anche un altro elemento che secondo me è proprio fa parte è un qualcosa di intrinseco all'interno del mondo dei podcast che è quello della serialità viviamo nell'epoca della serialità netflix ce lo insegna le serie ecco con i podcast con i tempi dilatati tu puoi ascoltarti un racconto allungandolo cercando di indagare nelle varie sfaccettature e in maniera seriale il podcast più famoso di sempre italiano è veleno di pablo trincio racconta un fatto insomma un fatto di cronaca abbastanza duro italiano pablo trincio tra l'altro che è uno dei podcast più famosi di sempre in italia è anche l'autore della 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 prefazione al mio libro sono cosa di cui vado molto orgoglioso ecco pablo trincio ha fatto questo podcast veleno che è una storia un call case di cui si è parlato sui giornali pertanto e lui l'ho riuscito a raccontare allungandolo in episodi di mezz'ora 40 minuti un'ora per otto puntate un fatto di cronaca lo ha dilatato andando a indagare in tutte le sue varie sfaccettature non so quanti di voi lo hanno ascoltato veleno magari ditemelo fatemelo sapere che interessante cioè è un ascolto inizia ad ascoltarlo e poi va una puntata dietro l'altra tira è come insomma come come netflix io tra le altre cose chiedo anche ai membri della regia se dovesse cadere la linea se non mi si vede più magari fatemi segno ditemelo non vorrei parlare e poi dall'altra parte non c'è nessuno sull'altro motivo è spotify che sta praticamente puntando su contenuti originali vi do la notizia c'è la notizia quella di proprio ve la do adesso proprio freschissima barack obama sta lanciando il pre l'ex presidenza degli stati uniti sta lanciando il suo nuovo podcast insieme al boss a bruce pristing c'è il podcast di barack obama e bruce pristing c'è barack obama oggi di professione fa il podcaster barack obama insieme a sua moglie michelle che anche lei ha un podcast hanno aperto una casa di produzione podcast e lo stesso ha fatto tipo l'ex direttore di repubblica mario calabresi ha aperto una casa di produzione podcast una casa dovrei dire una casa editrice di podcast ci sono sempre giusto io ogni tanto sono terrorizzato che la rete si frizza insomma comunque spotify sta puntando sui contenuti originali altra cosa i dei giacal ti conosci di giacal tu come no assolutamente si sono i dei giacal hanno lanciato un podcast in esclusiva e originals quindi originale c'è il prodotto da spotify per raccontare il festival di sanremo quindi insomma spotify sta puntando su questi contenuti unito a questo sta puntando su tutta una serie di cose tecniche tra cui anchor e altri strumenti che magari ne parliamo dopo cioè sta puntando su una serie di strumenti tecnici che permettono a chiunque a chiunque di creare podcast per ultimo l'ultimo elemento tecnologico sono queste robe qua sono le nuove radio gli smart speaker che permettono insomma la diffusione di podcast accanto alla radio e quindi niente vuoi darmi le domande che sono arrivate allora prima domanda è quella di martina ci dice che ha da poco aperto un podcast in lingua spagnola quale potrebbe essere un modo per arrivare a più persone questa è la prima domanda e ci chiede anche se è preferibile una continuità per tematica una continuità per tematica secondo me deve puntare sicuramente sulla serie a secondo me sicuramente deve puntare sulla serialità cioè quindi deve deve riuscire a trovare un argomento seriale che riesce a riprodurre in più in più temi per tot numero di puntate e deve puntare ad essere costante soprattutto un contenuto costante per quanto riguarda il fatto che lo fa in spagnolo credo che sia una buona cosa dal momento che spotify in spagnolo funziona molto bene c'è un sacco di pubblico molto più che quello italiano insomma sì tra le altre cose sono andato non so se lo conoscete c'è questo nuovo social network che si chiama clubhouse network tutto audio e quindi proprio social network dei podcaster insomma perché insomma è quello della voce e questo questo social network sono entrato per vedere un secondo se si parlava all'interno del di questo di questo social network di dello stream on di spotify di questo avvento che si è concluso poco prima della diretta qua che stiamo facendo al giardino dei libri e e praticamente quello che è successo è che l'unico gli unici gruppi che parlavano appunto dello stream on di spotify erano tutti spagnolo significa che c'è proprio un'attenzione tra le altre cose spotify ha iniziato ad aprire una serie di contenuti spagnolo e spreaker sta investendo in contenuti di lingua portoghese spagnola insomma è molto interessante fare un po di casi spagnolo se domina la lingua vero diciamo che è un po la rivincita dell'essere non solo dell'apparire visto che il video è essere apparire mentre l'audio ti costringe a dare più contenuto e più corpo proprio diciamo ai contenuti stessi e una domanda di monica e ci dice che differenza passa sostanzialmente tra un audiolibro e un contenuto podcast allora mentre un audiolibro è un contenuto scritto letto cioè il senso è il libro letto e quindi è il libro che è scritto per essere letto mentre invece un podcast un contenuto in audio tu non puoi tornare indietro per rileggerlo per riascoltarlo è difficile insomma è più complicato quindi genere l'audiolibro è la lettura del libro tant'è vero che spesso viene fatto da un attore mentre invece un podcast è un contenuto già scritto pensato in maniera seriale spesso ma insomma pensato già per l'ascolto e c'è questa storiella bella che racconto anche nel mio libro di di alberto angela alberto angela ha scritto un libro tempo fa che si chiamava cleopatra questo libro è diventato un audiolibro quindi letto però da un attore e poi ci ha fatto un podcast ha fatto un podcast del libro l'argomento è sempre lo stesso è sempre cleopatra ci ha fatto l'audiolibro letto da un attore e il podcast invece l'ha letto lui perché la trasformazione in una serie audio del suo libro gli argomenti un po più frammentato in questo senso una domanda di massimiliano come fai a delineare il tuo target e soprattutto quali sono gli strumenti che utilizzi per guadagnare allora per guadagnare puoi utilizzare spreaker spreaker ti permette di mettere la pubblicità prima del podcast però in genere come dipende insomma se tu fai di professionale podcaster il giardino dei libri che sta puntando sui podcast può insomma cercare un podcaster un esperto insomma di montaggio oppure che sa creare storie in podcast e puoi lavorare insomma per il giardino dei libri così come per tante persone che stanno puntando sul mondo dei podcast insomma c'è come expertise e oppure appunto c'è nel senso sul tuo podcast ci vai a mettere insomma la pubblicità attenzione che se sei un giornalista come me non puoi dire la tu la pubblicità nel senso questo podcast è offerto dal giardino dei libri ad esempio no non puoi perché se giornalista il giornalista non può fare pubblicità lo dico sempre perché siccome faccio i corsi per anche per l'ordine dei giornalisti e ci sono tanti giornalisti che fanno i podcast se un giornalista non puoi dirlo tu lo sponsor devi far dire a qualcun altro è un altro modo insomma per guadagnare e anche quello di creare dei contenuti per un editore cioè un editore può finanziare la tua produzione in podcast esattamente come per un libro cioè tu pubblico un libro per una casa di editrice io ho pubblicato il mio libro corroy edizioni e roy edizioni insomma mi passa le royalties del libro è la stessa cosa tu puoi fare con il tuo podcast tu vai a creare un podcast quello che lo scrivi o insomma lo produci per un editore e l'editore ti passa che ci guadagna per con la pubblicità oppure per altri motivi loro e ti passa le royalties del libro ecco per questo ti chiedo ti chiedo una cosa i contenuti del podcaster valgono anche come crediti per entrare nell'ordine dei giornalisti e con dei giornalisti pubblicisti quindi come funzionava per se una testata se una testata editoriale si sei registrata come testata editoriale il tuo podcast tra altre cose io lo consiglio sempre di registrare il proprio podcast come testata giornalistica insomma perché se tu fai dei podcast d'inchiesta e non è una testata non lo fai per un editore o non lo fai per una testata giornalistica e non è una non è un podcast giornalistico perché non è registrato e ai meno strumenti se ti fanno causa se insomma cioè non hai tutte quelle quelle quei diritti che ha un giornalista insomma italiano che può come il diritto di cronaca e altre cose di questo tipo però quindi dipende se registrato come come prodotto giornalistico come testata giornalistica oppure no se c'è un direttore responsabile oppure no però sì lo puoi registrare come registrare perfetto puoi registrarlo sì un'altra che facciamo vogliamo riprendere vogliamo riprendere il webinar e poi raccogliamo le domande dopo ok diciamo l'ultima di di mary così dopo visto che l'abbiamo lanciata e quali sono i contenuti più ricercati e graditi dagli ascoltatori allora il primo è quello del true crime vi segnalo che in questi giorni ricorre l'anniversario se non proprio oggi che giorno è oggi il 20 oggi il 22 il 22 oggi ricorre l'anniversario del mostro di firenze no lo so perché in questi giorni sono proprio sono intrippato di tutte queste storie di crimini e mi sono ascoltato tutti i podcast sul mostro di firenze e insomma sta uscendo un podcast nuovo proprio sul di anniversario del mostro di firenze quindi il podcast true crime sono quelli che vanno di più inoltre un oltre inoltre inoltre veleno di cui vi ho parlato prima e non è un true crime perché una storia vera però insomma è un cold case è un caso di cronaca dove ci stanno insomma cioè è molto vicino al true crime insomma diciamo i podcast in cui si parla di crimini di racconti criminali di di insomma di tutte queste robe qua inchieste su fatti di cronaca sono quelli che in genere si da sempre in genere anche anche a livello di cronaca giornalistica proprio funzionano molto bene e funzionano ancora di più in podcast addirittura spotify ha comprato una casa di produzione di podcast proprio di true crime quindi di crimini si chiama pagina sul quale sta investendo molto io sono sempre più convinto ne ho parlato in un paio di servizi che ho fatto anche per la televisione del fatto che andremo sempre più spesso verso podcast tradotti dall'estero e io non escludo che il podcast più famoso di sempre che serial venga tradotto in italiano italiano perché insomma c'è il senso che non tutti riescono cioè mentre l'inglese quando vedi un film quando vedi un film cioè tu vedi sottotitoli insomma vedete sottotitoli lo vedete in inglese imparate l'inglese e leggendolo vi è molto molto più chiaro un podcast invece cioè devi avere un livello di inglese un po più alto è difficile eseguire un podcast in inglese quindi io credo quindi se da una parte il cinema sta insomma visto che sempre più persone parlano inglese grazie al cielo insomma anche e quindi la gente sta cercando di parlare sempre di ed ascoltare i film sempre più spesso in lingua originale dall'altra i podcast io sono abbastanza convinto che arriveranno tutta una serie di podcast tradotti in in italiano quindi ci sarà un nuovo lavoro per gli attori che tradurranno appunto cioè grazie a questo rinascimento dell'audio di podcast dall'estero quindi siccome noi abbiamo all'estero tante storie di true crime ho fatte molto bene io non escludo che le tradurranno in italiano perché quello il futuro lì quella storia cosa lì funziona l'altra roba che funziona molto bene e la narrazione le storie in generale io faccio un podcast di storie ad esempio non so se lo vuoi se lo vogliamo ascoltare magari io ho un podcast in cui racconto di come la tecnologia risolve i problemi quindi parlo dei miei problemi di amore e quindi come la tecnologia può risolvere i problemi di amore in pandemia tra le altre cose oppure i problemi di soldi la gente che non ti paga come nell'epoca attuale grazie alla tecnologia tu puoi risolvere il problema della gente che non ti paga o tu sei un libero professionista e non ti arriva non ti vengono pagate le fatture in tempo quindi racconto tutte queste cose qui l'ultimo episodio racconto dei problemi di insomma di stress di insomma di difficoltà anche ad addormentarsi la meditazione che è un argomento che so che a voi piace molto aiuta si si aiuta moltissimo questa roba qua e io ho pensato insomma di fare un podcast su come la tecnologia risolve questa cosa qui l'unica cosa è che vedo che non è collegato il mio smart speaker ve lo faccio ascoltare tramite lo smart speaker ah ok altrimenti poi daremo i tuoi i tuoi link prima della fine se andate su spotify e cercate damiano croniali oppure il bello del web che è il mio podcast l'ultima puntata è sulla respirazione respirazione e meditazione che serve anche per dormire bene e racconto la storia di calma è un'app per cellulare che ha anche dei podcast all'interno tra l'altro questa app ed è una storia in realtà io quello che faccio è racconto la storia dei miei problemi e come la tecnologia aiuta a risolverli e in mezzo ci metto la storia di un'applicazione o di questa applicazione tecnologica e in questo podcast ve lo faccio ascoltare un attimo ditemi se si sente bene insomma racconto un viaggio che io sto facendo in abruzzo e di come la tecnologia insomma mi avvicina a mi aiuta a risolvere questo problema lo faccio andare benvenuto in un podcast original di damiano croniali buon ascolto ciao sono in treno sto viaggiando da solo su questo piccolo treno regionale e l'unico treno che c'è e che mi può portare al centro del parco nazionale del gran sasso in abruzzo dove mi trovo ora mentre mi ascolti devo andarci per lavoro e sarà questo rumore del treno che torna e mi fa sopire sui miei pensieri e poi non potermi muovere dovendo rimanere qui fermo al mio posto in treno tutto ciò mi fa pensare che forse il proviamo a ricollegarci con damiano abbiamo ancora qualche problema di collegamento va bene allora vado allora prima prima di iniziare adesso avete ascoltato un po il mio podcast lo trovate là dentro quello che volevo farvi sentire era questo tra l'altro un bel podcast andatelo ad ascoltare questo sulla meditazione perché è un podcast che l'ho pensato proprio per farvi dormire quindi c'è il senso che siccome i podcast ho visto che molto spesso sono ascoltati la sera per andare insomma per addormentarsi anche io l'ho pensato così ho fatto un racconto ho intervistato anche Lucia Giovannini Emiliano Toso che ho visto che ha suonato qualcosa in diretta per Radio Book ho visto insomma ci sono intervistato Emiliano Toso in questo podcast che lui insomma fa delle composizioni che sono molto vicine alla meditazione molto vicine lo diciamo anche ai nostri amici quindi mandate i vostri video perché abbiamo questa opportunità allora se volete ramandarvi vi racconto quello che farò adesso io nel prossimo nello spazio che segue quello che vado a raccontarvi sono le abilità che dovreste sviluppare per fare un podcast e poi insomma vi racconto come fate a pubblicare il vostro podcast se vado giù mi riconnetto da Chrome abbiamo detto nel caso intanto vedo che Rosa mi chiama subito e tu insomma raccogli le domande e rispondo magari a delle domande se vado giù è il destino che vuole che rispondo prima alle domande più ritorni giù e più ti tiriamo su vai tranquillo senti ma sono insincro giusto? non è che vado che sono ok perfetto ottimo va bene allora le abilità che abbiamo capito che stiamo vivendo un nuovo rinascimento dell'audio cari ascoltatori del giardino dei libri le abilità oggi che servono per pubblicare un podcast sono essenzialmente queste io ne individuo tra 7 e 9 che sono il primo è quello di ascoltare cioè noi siamo abituati secondo me siamo abituati poco ad ascoltare bisogna ascoltare le belle storie le biografie, le interviste che spesso nascondono una biografia di personaggi insomma che ce l'hanno fatta o anche delle insomma che non ce l'hanno fatta ma che nascondono una storia secondo me sviluppare un ascolto ai podcast in genere un ascolto in generale è una dota assolutamente da avere questa è la prima cosa che dico sempre imparare ad ascoltare l'ascolto dei podcast è importantissimo insomma se volete insomma lanciarvi nel mondo dei podcast pure per avere delle idee su come farle per quello che come farli e per quello che vi ho fatto ascoltare ad esempio il mio podcast prima la seconda abilità è quella di riuscire sempre a trovare delle idee idee tra le altre cose che prima qualcuno ha fatto la domanda di come si guadagna con i podcast come si regge un progetto podcast beh deve essere un'idea insomma che si autosostiene credo io non metto la pubblicità sui miei podcast non ho una particolare strategia li faccio semplicemente perché ho bisogno di raccontare e siccome già mi occupo per lavoro insomma io faccio il giornalista mi occupo di tecnologia ho tanto materiale e spesso non riesco a raccontarlo oltre al servizio di 2-3 minuti il podcast mi permette di raccontare una bella storia come ad esempio la storia dell'app Calma nell'ultimo episodio del mio podcast in 40 minuti in 30 minuti in un racconto in cui posso insomma sviscerare tutti i vari aspetti di quella narrazione quindi io non ho una particolare interesse però ad esempio una persona che fa l'architetto può fare un podcast per spiegare come come costruisce le case il suo stile puoi raccontare o ad esempio ecco c'è un podcast un fashion stylist può raccontare un podcast in cui senza far vedere cioè nel mondo del fashion che è tutto visivo puoi insomma far raccontare il tuo stile senza avere per forza bisogno dell'immagine lì davanti e quindi insomma cioè le strategie sono diverse però ecco trovare le idee avere questa attenzione alla serialità cioè come quell'idea riesco a svilupparla in più episodi come riesco ad indagare come trovo l'idea che si può sviluppare in più storie quella è una dota assolutamente da sviluppare tant'è vero che io quando leggo i giornali o quando leggo i libri ho ormai una mentalità da podcaster come sviluppo l'idea in una narrazione in audio e che strategia c'è dietro che nel mio caso non è in questo caso quello di guadagnarci ma una persona insomma può anche trovare un modo insomma di rendere profittevole la propria attività poi comunque in questo momento cioè nel senso è molto più semplice fare un podcast verticale su un argomento un unico argomento e trovarti un pubblico di persone che sono stanno lì ad ascoltarti che non devono essere i numeri di un video online su youtube cioè i numeri sono inferiori ma con quei numeri un po' più bassi in proporzione un podcaster di pubblicità guadagna di più tra le altre cose quindi ricapitolando l'idea trovare un'idea che regga una narrazione e ti permette insomma di sostenerti è importante cioè quindi una ricerca delle storie giuste del tema chiaro del tema capito tra le altre cose siccome non è in siccome non è una roba indiretta ma è una roba che rimane per sempre tendenzialmente devi pensare anche a qualcosa che rimane e che le persone si ascolteranno da qui a un anno ecco poi l'altra attenzione l'altra abilità che devi sviluppare è quella dello scrivere io scrivo tutto nel senso che io scrivo i video scrivo i libri scrivo per me è importante scrivere anche se non scrivo proprio cioè se il mio podcast non è quello che io scrivo però tengo lo stesso un copione e ai miei alunni alle persone insomma che mi seguono io cerco sempre di dargli questo consiglio abbi di sotto mano un pezzo di carta della penna cioè nel senso abbi un copione quando vai a scrivere il tuo podcast io per anni ho tenuto come vi ho detto cioè nel senso un programma alla radio ma per me quel programma aveva poco o nessun valore non era una grande emittente tu l'hai citata cioè Radio Atlanta è stata una storica emittente radiofonica è stata una delle prime radio libre però insomma nel senso quando ci ho lavorato io ormai era in fase calante però il mio programma alla radio insomma mi ha aiutato ad entrare nel mondo insomma dell'audio ma secondo me non avevo un grande valore perché erano chiacchiere al bar e quelle chiacchiere che io faccio su Clubhouse ad esempio sempre meno mi auguro che è un social network dove tutti insomma possono essere protagonisti della narrazione del programma invece è importante riuscire a scrivere per l'ascolto ad avere un qualcosa che è scritto per essere ascoltato e quindi c'è chi ha delle regole specifiche appunto per l'ascolto questo tipo di scrittura e quindi imparare a scrivere per l'ascolto è un'altra abilità che devi sviluppare la quarta che per me è la più importante di tutte ed è il motivo per cui credo che riesco a fare dei podcast che funzionano è quello del ritmo la narrazione deve avere un ritmo sia che tu faccia un podcast di intervista io intervisto Gianfranco oppure io intervisto Rosa ecco l'intervista è una chiacchiera tra me e te però se è scritta cioè quindi se seguo un copione che ha uno storytelling quindi cioè so dove inizio so dove finisco e se riesco a dargli un ritmo questo ritmo da che cosa è dato sia dalle domande c'è questo bel podcast di Valerio Russo credo che sia Talent Bay non lo consiglio mai però lo ascoltavo qualche stamattina forse perché intervistavo un bell'ospite è un podcast di intervista ma lui è molto bravo a dargli un ritmo a questa narrazione cosa che io quando facevo un programma alla radio ad intervista che poi col programma alla radio diventava anche un podcast ecco quella cosa lì non aveva lo stesso valore allora per me è importantissimo montare i podcast avere quella post produzione è molto importante la post produzione perché gli riesco a dare questo ritmo attraverso il montaggio tra l'altro nel mio libro io spiego un po' come si fanno a montare i podcast e siccome insomma è un programma che non va in diretta secondo me l'elemento della post produzione è interessante da avere anche perché scusami Damiano è proprio il discorso del bello della diretta dove si possono anche dire come dicevi tu quattro chiacchiere in libertà ma quando poi registri e rimarrà registrato all'interno di questo on demand è come scrivere quindi è come uno script amanent è un registramanent in questo senso esatto è proprio questa cosa qua e quindi è importante dargli un ritmo io glielo do con la narrazione glielo puoi dare con un buon ritmo di voce con una bella intervista ci sono tanti modi però quella è l'elemento del ritmo è un elemento è un'abilità che devi sviluppare come podcaster il quinto elemento è la voce questo elemento non segue mentre i primi quattro li seguono tutti cioè prima c'è l'ascolto dall'ascolto di altre cose io mi faccio venire un'idea e poi dall'idea io scrivo e poi devo dargli un ritmo e quindi il montaggio oppure non montaggio insomma ad esempio Barbero Alessandro Barbero è molto bravo a fare dei podcast perché la sua narrazione la sua voce ha un bel ritmo ecco mi unisco a questa cosa di Barbero per dirvi la voce è l'altra abilità che bisogna sviluppare l'ho detto prima la voce svolge il lavoro del Buddha per me quindi dalla voce tu puoi capire se è una persona di valore oppure no se è una bella persona oppure no se ti piace il podcast un sacco di podcast vengono subito chiusi perché la voce del podcaster a noi non ci piace e quindi è importante sviluppare insomma la voce l'abilità della voce ecco a sviluppare una voce da podcaster è un'abilità da avere che poi non deve essere una bella voce cioè non è detto che devi essere per forza una bella voce io non credo di avere una bella voce è piena di inflessioni dialettali anche la mia però deve essere una voce che trasmette qualcosa una voce deve avere un intento secondo me questo me l'ho sentito parlare già con questa cosa stai rispondendo a tre domande contemporaneamente il fatto di poter lavorare sulla voce in questo modo devi avere un intento cioè dan cioè io ad esempio i miei podcast io faccio podcast anche per altri faccio i miei podcast poi faccio podcast per altri spesso i podcast per altri che faccio come insomma consulente come insomma come producer non li registro io ovviamente con la mia voce e li faccio fare a degli attori a degli speaker spesso lo speaker non mi funziona bene perché non ha il giusto intento quell'intento che io voglio trasmettere e magari funziona meglio la mia voce che è dialettale sbaglio le le o e le o le aperte quelle robe là insomma che bisogna tra l'altro farle bene insomma bisogna farle bene perché altrimenti non creano contatto non creano pathos esatto però è importante insomma avere anche il giusto intento quello che dicevi tu il pathos i silenzi quando servono ecco la voce è un'abilità che non deve essere una voce perfetta ma deve essere una voce che sa fare il podcast ecco siamo a 5 un altro elemento è quello del podcast marketing che questo elemento qua il podcast marketing che io intendo la pubblicazione e la promozione vale insieme metà di tutto il lavoro perché spesso tu fai un podcast e non lo ascolta nessuno se non hai se non hai sviluppato proprio quegli elementi di marketing basici oppure quelle regole di pubblicazione e promozione che ti servono per far conoscere il tuo podcast io sempre nel mio libro gli dedico un bel capitolo bello lungo su questa parte qua quella del marketing perché ci sono passato ci sono passato cioè fai un podcast e lo ascoltano in 10 persone triste come cosa soprattutto quando ci metti in un sacco di tempo perché da una parte non c'è tanto pubblico però dall'altra hai bisogno di quelle due tre regolette esatto che provo a raccontare là insomma sia io che i podcaster che ho ascolto che ho insomma intervistato ho sentito quindi il podcast marketing l'attenzione a come promuoverlo come pubblicarlo altri elementi gli ultimi tre insomma che ho individuato io sono saper fare le interviste sia che voi fate un podcast a intervista io intervisto una persona sia che faccio un podcast di storie è importante saper fare l'intervista nella maniera corretta come faccio l'intervista come la registro come la cattura come la metto all'interno del mio podcast poi l'altro elemento è la ricerca delle fonti io per raccontare il podcast questo sulla meditazione sono partito da un'intervista che ho visto online del fondatore di calma quest'app che serve per meditare e lui racconta come è passato da un business che serviva per meditare a un'app che serve per dormire perché in realtà le persone ascoltano la maggior parte è triste da dire questa roba qua però lui diceva che la maggior parte delle volte medita la sera per addormentarsi sono due elementi totalmente diversi è un po' come la favoletta esatto loro quello che hanno fatto è stato allora io cambio cioè anziché fare la mindfulness faccio la sezione di storie della buonanotte per adulti noi siamo noi siamo insomma quando eravamo bambini eravamo così amanti delle storie della buonanotte e come mai ce le siamo dimenticati su calma ci sono una storia della buonanotte ho scritto storie proprio per la buonanotte quindi sfondi proprio una porta aperta sono d'accordissimo con te perché questa cosa ci accompagna diciamo ci prende per mano e ci accompagna nel regno dei sogni nel migliore dei modi spero spero di essere un po' soporritro anche io come voce sei molto chiaro sono giusto o vado un po' rallentato sono fuori va bene sei assolutamente in sincro perfetto meno male allora trovare io questa cosa qui ho visto online cercavo un TED Talk conosci TED Talk sono questi video su YouTube simili a YouTube dove ci sta una persona esperta come puoi essere tu di radio io perché ho scritto un libro sul podcast che raccontano qualcosa ho trovato questo 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 TED Talk di insomma li conoscete i TED Talk voi che state lì tra il pubblico scrivetemelo scrivetelo a Gianfranco cos'emmeno lui lo vede ecco ho trovato un TED Talk del fondatore di Calmi in cui lui spiegava come era passato da fare un'app per la meditazione a fare un'app di storia della buonanotte dove ci sono anche dei podcast e quindi ho preso quel materiale lì ci ho costruito intorno il mio podcast e ci ho messo dentro le interviste che avevo fatto a Lucia Giovannini ad Emiliano Toso e un altro autore di Roy Edizioni Ricciardo Romagnoli anche lui ha fatto un bel podcast sulla meditazione sulla spiritualità e quindi gli ho mixati tutti nel mio racconto nel mio racconto insomma trovare le fonti è importante infatti a me mi sembra proprio quando faccio un podcast mi sembra proprio di fare un bel lavoro editoriale dal giornalista l'ultimo elemento da tenere presente è questo ma non so se siete andati già ad ascoltare il mio podcast o ci andrete fra un po' però io faccio i podcast quelli miei e non per altri dove ci sono poi tutta una serie di vincoli per clienti per editori insomma i miei che li faccio per me dove non ci guadagno niente e li faccio per mio per la mia pratica ecco proprio per la mia pratica personale per allenarmi dalla scrittura dalla ricerca delle fonti alle interviste alla scrittura al montaggio e me li spicherò anche io io ci metto tre giorni tre giorni quattro giorni ecco perché sono molto organizzato ecco sono molto organizzato ed è una dote assolutamente da sviluppare è quella del podcast planner che ci farò anche prossimamente un quaderno proprio un diario di produttività per fare podcast essere organizzati sapere quando fai le interviste avere un calendario editoriale dal momento che qui stiamo parlando di un prodotto seriale è importantissimo ed è un'abilità da sviluppare per riuscire a fare i podcast insomma un po' come li faccio io poi è ovviamente il tempo che ti aiuta a diventare bravo però essere organizzati avere un planner un'organizzazione di pubblicazione dal momento che stiamo parlando di un prodotto seriale è fondamentale ecco queste sono le abilità che io consiglio di sviluppare che saranno sviscerate in prossime anche pubblicazioni che farò e per quanto riguarda invece nel libro esatto per quanto riguarda invece in libro questo qui questi qui sono i sviluppi che avrò prossimamente mentre invece sul mio libro io in questo caso do tutti gli strumenti che servono ad oggi per creare un podcast con un sacco di tool anche utili che vi semplifico molto velocemente che è in questo cioè nel senso per pubblicare un buon podcast voi non potete prima di tutto dovete capire dove pubblicarlo io spesso consiglio puntate su un posto che è ad oggi Spotify in questo momento per pubblicare però su Spotify voi non potete prendere il vostro audio e pubblicarlo direttamente dentro Spotify ma dovete passare attraverso un sito un server quelli più famosi sono due Spreaker e Anchor e ovviamente su questi due strumenti voi dovete pubblicare direttamente il vostro audio ecco e per creare un buon audio per creare un buon contenuto non serve niente di che spesso la gente mi chiede ma quale microfono mi compro la prima domanda che ti dovete fare invece è un'altra qual è la mia idea qual è la storia che vado a raccontare se hai una buona storia voi potete registrare il vostro audio anche con il cellulare tra l'altro ci sta l'applicazione l'applicazione di Anchor e Spreaker è già presente qua dentro cioè dentro il cellulare quindi voi potete direttamente far partire l'app di Anchor e di Spreaker e pubblicare il vostro contenuto già direttamente dentro Spotify e dentro tutti gli altri posti dove si possono pubblicare i podcaster addirittura appunto con il microfono del cellulare esatto e a volte viene anche meglio rispetto al microfono tipo quelli professionali perché poi qui vanno settati poi come mi dicevi tu non si senti il ritorno non hai cioè abbiamo visto il problema che avevamo avuto all'inizio cioè tutte queste robe qua vanno sistemate devi essere molto tecnico infatti io quello che dico sempre è la complessità è nemica dell'esecuzione citando citando Tony Robbins e quindi se voi avete però una buona idea voi potete anche semplicemente utilizzare l'app Anchor Spreaker sul cellulare registrarlo direttamente da qua che è un microfono semplice buono buonissimo tra le altre cose e spararlo già direttamente sulle piattaforme podcast benissimo ti giro appunto la domanda di Leonardo invece per intervallare ditemi sono stato sono stato vi è servita questa roba che vi ho raccontato conciso e compendioso alla grandissima conciso addirittura ho pensato di essere stato lunghissimo no 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 sei stato molto conciso ci chiede Leonardo per intramezzare alcuni podcast con delle canzoni quindi i consigli non le puoi mettere punto liberi possibilmente e come usare la domanda la domanda è questa la risposta è questa non puoi mettere la musica dentro dentro il podcast proprio sono due cose diverse cioè se tu metti la musica dentro il podcast te la brasa via nel primo episodio del mio nuovo podcast il bello del web io la metto una canzone all'interno ma mi sono fatto firmare una liberatoria dall'etichetta discografica l'ho spedita a Spotify Spotify ha dovuto accettare hai capito c'è il senso tra le altre cose non me l'ha accettata ma è un tacito che potrebbe brasarmelo via in un futuro tipo comunque no non le puoi fare anche quelle free quindi con le royalty free quelle sulle royalty free sì quelle sulle royalty free sì invece però quelle che sono registrate e sono soprattutto già caricate dentro Spotify ti brasa via il podcast te lo cancella e quindi non lo puoi fare tant'è vero che ci sta uno dei podcast più ascoltati di tutti è di un podcaster che parla di musica senza mettere la musica cioè parlare di musica funziona molto bene se ci metti la musica hai meno visibilità e rischi che ti tolgono ti cancellano il podcast perché ad esempio parlando di Spotify ma è un po' ovunque questa roba qua la politica è quella di tolleranza zero sono due robe completamente diverse da una parte la musica dall'altra i podcast so che è una delle domande che si fa più spesso certo io ho trovato questa roba qua nel senso che io nel podcast ho messo una canzone tra l'altro di un autore non famoso non famosissimo ma è molto bravo Mattia De Simone vi consiglio di andare a cercare una domenica d'estate però io a voce dico e adesso vi faccio ascoltare questa musica una breve parte insomma 30 secondi ho messo e ho detto mi è stato dato dalla sua etichetta discografica citandola il diritto il permesso di poterla trasmettere e l'ho chiusa così benissimo ti giro la domanda di Arcipelago Libri che dice il mio podcast Arcipelago Libri va in onda alla radio e poi resta disponibile sul sito della radio quindi probabilmente è sicuramente on demand mi consigli di emigrare anche su Spotify o simili subito subito proprio ti racconto questa storia come si chiama? e Arcipelago Libri ciao Arcipelago Libri io non so che tipo di podcast fai tu però mi piace tantissimo solo il fatto che ti chiami Arcipelago Libri sarai un editore e credo che insomma dai libri dalle storie che vengono dette dalle storie sui libri ci sono tantissimi c'è tantissimo materiale per i podcast io facevo questo programma su Radio Atlanta e ovviamente in un periodo in cui Spotify non c'aveva ancora i podcast tra le altre cose però dicevo al mio editore al proprietario della radio gli dicevo ma perché non mettiamo i podcast su Spreaker che si potevano pubblicare su Spreaker i podcast abbiamo più visibilità la gente va a cercare i podcast lì rispetto al sito della radio e l'editore mi faceva la radio ma per quale motivo io devo dare la mia il mio contenuto a Spreaker o a Apple Podcast c'è sempre questa roba qua ma invece è un problema questa cosa qui perché il podcast è un contenuto è un contenuto e come contenuto tu lo puoi trasmettere su una piattaforma come Spotify come Spreaker come tantissime altre come Apple Podcast come Google Podcast lo puoi trasmettere anche in radio in radio proprio in radio in diretta io un mio podcast in Medio Oriente lo trasmettevo anche in radio e poi lo mettevo dentro Spotify è un contenuto e più diffusione ha credo meglio è il problema che io avevo con il mio editore alla radio era che lui non voleva dare i suoi contenuti a Spotify eppure oggi invece tutte le radio lo fanno insomma assolutamente perché hanno più visibilità ci chiede qual è la durata media e quindi anche consigliata per ogni podcast 23-24 minuti è l'ascolto medio di un podcast 23-24 minuti pensateci quanto tempo voi ascoltate un video è incredibile invece un podcast 23-24 minuti che comunque è una durata importante tanto tanto insomma quindi bisogna pensare anche ai contenuti di questa lunghezza qui seriali perché la gente lo mette e poi va tipo a correre oppure fa altro lo ascolta dagli smart speaker vero quindi 23-24 minuti è la media di ascolto io faccio podcast di 30 minuti ho visto che Spotify sta lanciando una sezione di 15 minuti di podcast il podcast sotto i 15 minuti quindi forse si va verso contenuti un po' più brevi sto pensando ecco un consiglio i podcast li consigli anche come contributo sui social o li allora i social sono tutti visivi quindi se voi fate un podcast un contenuto anche tipo per Instagram mi viene in mente dovete metterci anche la parte video ci sono un paio di tool per fare anche il video sapete il video quello con l'onda questa roba qua vedete quest'onda qua si chiama audiogramma quindi siccome hanno bisogno anche di parte visiva quello che consiglio io è costruire quest'onda ci sono dei tool degli strumenti online che vi permettono di farlo dove voi mettete il vostro audio e poi l'onda del vostro parlato esatto esatto massimiliano ci dice eccolo qua io quando posso li ascolto di mattina quando vado a lavorare in auto fantastico adoro la voce hai consigli per quanto riguarda il miglioramento della voce e l'intonazione dei consigli allora io li sto raccogliendo in realtà ma consigli per lui non ho capito per lui che deve fare dei podcast probabilmente si l'ho visto più come ascoltatore però probabilmente anche forse è interessato forse vuole entrare anche lui nel mondo dei podcaster allora consigli per la voce un paio di consigli che sono quelli di tenere un tono di voce un po' più greve greve grave grave cioè più basso insomma una voce un po' più bassa e questo aiuta sia a non perderla che a migliorare insomma proprio l'intonazione un'altra cosa è curarla avere avere cura della propria voce io sarà che io sono sono spiritualista insomma io sono tutto intrippato di queste robe e poi quindi io faccio anche i mantra e quindi questa roba qui a me mi aiuta credo però però allenarla quello allenarla e mentre dico questa roba qua mi viene in mente che essere in forma fisicamente quindi andare a correre fare sport essere allenato fisicamente ti permette anche di essere allenato con la voce sì e poi io mi consigliavo un mio amico un mio amico cantante le tisane forse l'erimo non so c'è una roba tipo una una erba che si chiama erimo che può aiutare sì a proposito proprio di cantante Daniela ci dice proprio questo si può cantare raccontando una storia io sono una performer e racconto le storie aggiungendo musica tipo storie della buonanotte aiuta tanto cioè le storie della buonanotte funzionano tantissimo cioè se tu fai delle storie della buonanotte considerate che c'è questo podcast che funziona tantissimo negli Stati Uniti good night for rebel girls mentre voi parlavate vi ascoltavo e leggevo anche i commenti praticamente tutti sono molto contenti sì di questo intervento e gli è stato utile quindi molto io ero dietro le quinte che leggevo e le domande per poi comunicarle e devo dire che è una bella serata a me è piaciuto tanto ma siamo già alla fine signori ma siamo già alla fine ma io sarei andata io andrei avanti ancora per un po' sono le 21 e 40 vogliamo non so ci sono altre domande qualche domanda sì vediamo se c'è qualche altra domanda legata eccolo qua Massimiliano ci dice convieni con me che raccontare e fare serie podcast stile veleno non è per tutti bisogna avere una buona dose di fantasia ma anche di conoscenza di storytelling e voce comunicazione sì quello lì magari veleno sì però secondo me tantissime altre storie di racconti criminali ci stanno dei ragazzi siccome stavo ve l'ho raccontato che stavo abbastanza infisse in questi giorni con il mostro di Firenze per l'anniversario e quindi mi sono studiato insomma tutto il mostro di Firenze tutti i podcast che sono presenti su Spotify sul mostro di Firenze ce ne sono alcuni fatti molto bene ma sono semplicemente dei racconti ma si sente che sono dei ragazzi che stanno sperimentando il fatto di fare podcast cioè non devi per forza fare veleno che tra le altre cose ha Gipo Gurrado che è probabilmente il più grande podcast a un designer italiano e chi altro ha Pablo Trincia che è il più grande podcaster italiano ha uno staff di decine di persone è stato pubblicato da Repubblica cioè non è devi per forza arrivare a fare veleno tra le altre cose però fare una roba di quel tipo in video cioè era molto più grosso invece in audio sono riusciti a fare una cosa con costi molto più contenuti e di un valore enorme perché l'audio tra le altre cose sempre sulla parte della scrittura cioè l'audio ti permette di dire cose esattamente come i libri che le persone non vedono e quindi si ricreano nella testa ed è bellissima come roba cioè tu attraverso le tue parole fa immaginare a un'altra persona una roba che non riescono a vedere Orson Welles ha fatto scuola con i primi però la domanda me la sono persa la domanda me la sono persa cioè fare veleno tra le altre cose io credo comunque sia che non sia cioè il stesso io i miei podcast i miei podcast tra le altre cose li faccio tutti da solo con i miei studenti ogni tanto giusto per farli allenare gli do me li potrei fare anche io cioè però gli do per me è un'occasione anche per insomma per sperimentare insieme a me una roba day by day che insomma viene ascoltata cioè i miei podcast credo che siano qualitativamente cioè no non ti dico che sono come veleno ovviamente che sono fatti da Gipo Gurrado e da Micheli Luca Micheli che sono bravissimi però credo che non abbiano nulla da invidiare a podcast di quel tipo e sono tutti fatti in maniera artigianale cioè non serve per la produzione audio chissà che cosa cioè servono poche regole secondo me già che ti leggi il mio libro non perché voglio fare pubblicità il mio libro ma anche altri il problema è che non ce ne sono tanti insomma di libri sui podcast proprio per podcaster scritti insomma spero bene insomma che si leggano cioè non c'è tanto insomma perché sono poche le cose che devi sapere ed è ed è un mondo in questo momento abbastanza vuoto che ha proprio bisogno di persone che invece abbiano delle buone idee che con un po' di pratica riescono insomma a raccontare storie sì sì infatti guarda mi fai riassaporare il mondo delle radio libere ai primi tempi quindi quando si voleva raccontare qualcosa quando avevamo qualcosa da raccontare e nascevano proprio in quegli anni le radio libere questa è una grande opportunità per i ragazzi e per tutti coloro che hanno qualcosa da raccontare Filippo ci dice proprio io ho aperto un podcast a tema sportivo con gli amici quindi guarda i podcast sportivi Filippo funziona ora mi fai la domanda ti volevo dire solo questo negli Stati Uniti funzionano benissimo Spotify sta puntando su The Ringer ha comprato The Ringer per una cifra pazzesca perché negli Stati Uniti i podcast funzionano molto 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 bene e di sport in Italia c'è il vuoto c'è totalmente il vuoto se tu ti metti a fare un podcast di sport con un'idea originale alla base infatti forse dovrei farlo anche io insomma sport guarda cioè hai il deserto ad oggi c'è qualcosa ma poca roba infatti no no ma infatti grande idea infatti lui chiedeva su cosa su cos'altro dovrei puntare ma mi sembra che tu abbia già risposto Filippo no secondo me se riesci a trovare un'idea originale seriale che funzioni insomma se sviluppi se sviluppi proprio quest'idea sullo sport hai 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 un bel c'è strada insomma c'è un'idea molto buona anche per posso fare una domanda io posso fare una domanda io a questo punto verso di voi però se dovete chiudere chiudiamo io volevo capire come il giardino dei libri stava pensando di entrare nel mondo dei podcast che non è male come idea perché stiamo seguendo l'onda perché il giardino dei libri no ma di là del fatto che stiamo seguendo l'onda 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 del podcast bravo l'onda sonora infatti il giardino dei libri è sempre un passo avanti e sta ripercorrendo un po' questa quest'onda come dicevamo anticipando anche in un certo senso ma avete già un'idea su come sviluppare i podcast del giardino dei libri o ci state ragionando in questo momento? abbiamo alcuni progetti e proprio in questa occasione avremo anche l'occasione di parlarne con te quindi sarà anche un'occasione per sviluppare un progetto che ci può vedere anche collaboratori magari magari anche quelle persone che ci stanno ascoltando assolutamente cari ascoltatori cioè se prendete il mio libro o se ascoltate i miei podcast su spotify fatemi sapere insomma cosa ne pensate mi trovate come il bello del web in genere su Instagram oppure proprio perché ti definisci il bello del web tu no perché racconto il bello che trovo online questo da sé sono vent'anni che lo faccio lasse mi sta battuta permettimi a quest'ora si può però però sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate l'ho scritto in un momento l'ho scritto in un momento mentre stavo in Medio Oriente con la pandemia abitavo da due anni in là non era semplice in Kuwait avevano chiuso tutto in un momento in cui il podcast come oggi non lo era ancora cioè quindi mi sono immaginato quello che poi sarebbe successo un evento come quello che si è svolto oggi sullo streaming di spotify non era così un anno fa infatti il commento più bello che trovo sono due il primo è che è stato scritto bene io non sapevo scrivere un libro io so fare video so fare podcast ma scrivere libri è una roba che non sapevo fare e ho imparato a farla facendolo e quindi è il commento che mi piace di più quando la gente dice cavolo è scritto bene cioè non sembra un manuale è un racconto di uno che si mette a fare podcast perché è quello che è insomma è la mia esperienza uno che non li sapeva fare i podcast e che per forza di cose ha imparato a farlo e vi racconto la mia esperienza diciamo che comunque è una parte di passione la passione è comunque una forza motrice molto forte sì ma la passione bisogna averla per ogni cosa insomma se non è anche finito e quindi ho imparato a scriverlo grazie anche il mio editore insomma che mi ha seguito e mi ha aiutato in questo percorso e poi aver visto prima degli altri questa onda ed essere riuscita ad arrivare anche prima degli altri e questa cosa qui mi piace tantissimo e sono onorato di essere stato qua con voi al giardino dei libri il mio primo libro il mio primissimo libro non so se ve l'ho detto all'inizio però è stato pubblico era una guida no questo qui è quello che insomma è un vero libro l'altro invece era un libro che mi ero autopubblicato io e la maggior parte delle vendite veniva sempre dal giardino dei libri quindi sono molto affezionato era una guida era una guida su come diventare giornalisti ma parliamo di 10-15 anni fa sì tantissimo tantissimo tempo fa il giardino dei libri porta fortuna tantissimo germogli e fiori sì sì poi per uno come me insomma che è attento sia allo spirito al corpo insomma ad essere in equilibrio col mondo e cioè ci tengo tantissimo che la gente compri i libri sul giardino dei libri bene ben venga allora questo webinar questo contatto e la prossima collaborazione diciamolo già siamo in chiusura noi ti ringraziamo per la tua presenza per le risposte certo posso chiederti una cosa che mi piace stai facciamo domanda di danni allora domanda di danni è appena arrivata come chiusura per andare poi in finale è vero posso raccontare una storia ispirata da un libro vai è fondamentale questo dan ci dice questo quindi no era proprio una domanda lui dice posso raccontare una storia ispirata da un libro assolutamente cioè anzi c'è nel senso tu prendi un libro che è scritto per essere letto e da quell'idea lì del libro puoi svilupparci un podcast a serie in più puntate puoi raccontare delle cose che non sono scritte in quel libro puoi approfondirlo in 8, 9, 10, 12 ore di podcast anzi no assolutamente e quindi c'è tanto insomma soprattutto i libri i libri sono una grande fonte di ispirazione e di crescita così come i podcast anche sono due facce della stessa medaglia Damiano grazie grazie veramente per la tua presenza e per tutte le risposte mi scuso tantissimo dei problemi tecnici della mia connessione fetecchia mi trovo in campagna ad aspettare la fine di questa pandemia speriamo che finisca presto e ne sto approfittando intanto per fare podcast intanto cominciamo a produrre appunto questi podcast per sentirci più vicini stanno arrivando tanti complimenti grazie per te e ci chiedono anche dove possono contattarti quindi se ci puoi dare dei contatti guardate la cosa migliore allora se mi volete proprio scrivere su Instagram il bello del web il bello del web tutto attaccato che è il nome del mio podcast il bello del web di Damiano Crognali che trovate su Spotify dove racconto insomma la mia vita ma la mia vita non interessa a nessuno però insomma i miei problemi di un quarantenne che insomma sono i problemi di qualunque altra persona e racconto come li affronto attraverso grazie alla tecnologia come la tecnologia risolve questi problemi in delle storie insomma che è quello che dico sempre cioè nel senso partire dalla propria esperienza personale esattamente come un libro c'ha l'anima dell'autore un podcast secondo me ancora di più quindi cerco di proprio perché il podcast passa dalla voce quindi cerco cerco di utilizzarlo in questo modo un'altra cosa io credo che i podcast abbiano un grandissimo spazio nell'ambito della formazione ne sono sempre più convinto quindi anche per voi insomma Rosa tutto il team di Giardino dei Libri credo che voi che insomma siete siete ambasciatori insomma in qualche modo di cultura e di formazione anche spirituale credo che il podcast sia proprio uno strumento da cavalcare da avere assolutamente sì così come tutti gli ascoltatori che stanno connessi oggi insomma anche se non sono gli argomenti insomma vostri però credo che il podcast sia qualcosa è un bel modo per poterli veicolare certamente Damiano tra l'altro io adesso mentre ti ascoltavo leggevo e volevo comunicare a te esempio Valeria grazie a voi molto interessante Irma grazie per i contenuti interessanti del tuo racconto buona serata a tutti Daniela grazie di cuore Silvia grazie interessante è bravo Damiano è stato un piacere ascoltarti e così ce ne sono stati veramente tanti tanti per cui tantissimi complimenti Damiano grazie grazie mille e complimenti a voi io prima di continuare per gli ultimi saluti volevo ricordare ai partecipanti vi chiedo se volete lasciarci un messaggio sulla nostra pagina facebook e su tutti i social diteci se vi è piaciuta la serata i vostri feedback sono veramente molto preziosi per noi ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto la videoregistrazione che sarà già pronta da domani e vi arriverà un'email con il link infine voglio ricordarvi che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione webinar del giardino dei libri ci sono un sacco di amici ci sono veramente tanti ci sta Richard Romagnoli e molto interessanti se volete molto più del mio diciamo vedendo quelle facce insomma se volete vederlo basta andare sulla nostra pagina registrazione dei webinar che sono già terminati e ci sarà poi anche Damiano logicamente vi ricordo in più il prossimo webinar che è mercoledì 24 febbraio alle ore 20 e 30 sarà con noi sempre in diretta Marco Cesati Cassin il titolo è La legge del karma scopri ciò che sei stato scopri ciò che sarai ecco poi diciamo ricordiamo che al termine dei saluti ci sarà ci sarà le news di Radio Book che in questo momento è appunto Radio Book il giardino dei libri e poi verrà implementato prossimamente con i podcast tante novità che il giardino dei libri vi regala sempre bene Damiano siamo giunti alla fine vuoi aggiungere qualcosa come chiusura per i partecipanti che sono ancora tanti buonanotte buonanotte guardate tra le altre cose buonanotte insomma c'è il senso è proprio i podcast servono per dormire anche c'è il senso aiutano conosco gente che gli chiedo ma perché tu ascolti podcast perché non riuscivo soffro di insonnia non riesco a dormire i podcast mi aiutano ti aiutano e qui quando si dice che la voce guarisce ti aiuta e così magari ci rispariamo anche qualche qualche altro metodo che è meno naturale forse bene allora io Damiano ti voglio ringraziare per la splendida serata grazie di essere stato qui con noi voglio ringraziare anche Gianfranco grazie a te grazie di essere stato qui con me con Damiano e con tutti i partecipanti io vi aspetto mercoledì alle 20 e 30 sempre in diretta e Damiano grazie mille e ci sentiamo e alla prossima speriamo di vederci anche presto prestissimo ciao a tutti grazie ciao buonanotte buonanotte salve amici state ascoltando Radio Book la radio del giardino dei libri qualche consiglio per l'anima il corpo la mente e lo spirito buon ascolto iniziamo con una massima che ci farà pensare ogni domanda riceverà risposta ogni desiderio sarà esaudito non avrai più bisogno di avere paura o di soffrire apriamo il sipario sulle novità editoriali e scopriamo The Greatest Secret di Rhonda Byrne il segreto più grande accomodati a un tavolino lasciati sorprendere e gusta il tuo caffè questo è il messaggio di Totsikazu Kawaguchi per basta un caffè per essere felici due consigli per la crescita personale l'ultimo libro di Erika Francesca Poli Ricucire l'anima e quello di Emma Marlene esci dalla tua zona di comfort per la crescita spirituale Alberto Fragasso la bussola dell'anima e Marco Cesati Cassin la legge del karma se fallisci nel pianificare stai pianificando di fallire Goals di Brian Tracy ed ora qualche novità per un corpo felice per essere più felici nella nostra vita noi siamo quello che mangiamo la cucina vegana e creativa a salutare è cool è il libro di Carlotta Pergo cucina botanica vegetale buona e consapevole un buon metodo per dimagrire potenziato con digiuno e chetoni esogeni è quello di Stefania Cazzavillan per super metabolismo con la dieta chetogenica è un buongiorno si vede dal mattino e dallo spazzolino ecologico delicato è 100% vegan è lo spazzolino idrofil e allora diamoci la mano e rinforziamoci per rinforzare l'organismo e potenziare le difese immunitarie consigli e rimedi naturali l'ultimo libro di Marcello Pamio respiriamo a pieni polmoni con le essenze diffuse della Pranarom un'energia frizzante acidule zeste tonico e tutti i mesi si ripropone io e la mia coppetta mestruale come funziona e perché usarla è il libro di Laura Brugnoli e se siete stressati avete delle tensioni i sali Epson sono l'antidoto perfetto perché sono aromatopeutici e lasciano la pelle morbidissima ecco bat e se volete integrare la vostra alimentazione con degli integratori alimentari di ottima qualità i prodotti zuccheri Salus e Algem vi lascio con un amorisma questo neologismo che abbiamo coniato per voi per regalarvi aforismi nati dal cuore il primo amorisma è quello di Selene Calloni Williams buon ascolto i tuoi avi guerrieri vegliano su di te come lucciole nella notte ti mostrano il cammino non desistere non arrenderti è il momento del puro impegno in entrambi gli stati di sonno e di veglia pensa che tutto ciò che tocchi vedi senti e su cui agisci è il tuo esercito i tuoi generali i tuoi scudi oggi è il tempo della vittoria è il tuo esercito è il tuo esercito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.